Ciao a tutti quanti, allora oggi ho deciso di incominciare una nuova rubrica e la rubrica di oggi sono dei piccoli corsi di lingua inglese, di alcune lezioni soprattutto di lingua inglese per conoscere un pochettino la lingua inglese Iniziamo con l'alfabeto L'alfabeto è l'inglese composto da 26 lettere Iniziamo R, R, S, S, T, T, U, W, 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 X, Y, Y, Y in questa lezione abbiamo adesso cominciato a fare familiarità con la lingua, con l'alfabeto il consiglio che vi do di impararlo un pochettino dopo metto in basso sempre nella descrizione dell'alfabeto in lingua inglese di esercitarvi il più possibile nell'alfabeto vi mando un tesi e un bacio, ciao!